E' proprio stupido questi rando Bravissimo Hanno abbracciato vip mi sa Garden, Garden, hanno abbracciato termite in Garden Spot, Termite, Termite, Spot C'è 4, lo prendi, lo prendi Spot, Spot Accorcia, ce l'hai uno sulla Spot E' uno in sight, lì c'è in sight Vai 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 Lì c'è sta piazzandina Sta piazzandina E' uno su quelli degli esterni Si è spaventato, si è spaventato Si tiene, si tiene Si tiene Termite Uccidi su spot, uccidi su spot Qua, qua, su spot, su spot Lo prendi, lo prendi, lo spot al lato a destra Lo spot al lato a destra E' fermo A terra, a terra Bravissimo Quello è il Diffuser Quello è il Diffuser Zitto Termite se l'ultimo spot è giù in fondo Ok Fermo Gioca di vantaggio Silence, please B, 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 B B, B, B Gravissimo, Ralfo Bello Baccione, Claymore bravo 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 ma con quali rischi allora io te lo pusho il bandit tu fa il trick cioè splanta e mi pusho il bandit dimmi quando ci sei aspetta ci sono ci sono vai trik vai buttalo buona 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 io c'ho un problema sotto iager pulso morto c'è una gamma di valky aspetta aspetta che drono aspetta che drono fermi fermi ok te libera te libera ah cazzo te libera vai a piazzare vai a piazzare vado morto planto 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 buona nice ace chi ha il defuse sta realizzando valky sta realizzando un insight ti titolo gli armadi ti titolo gli armadi lato a destra raffa lì c'è anche valky c'è anche valky eh no c4 kids 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 c4 morta morta calma 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 bianche buona buona nice nice madonna cosa gli ho fatto cosa gli ho fatto cosa gli ho fatto cosa gli ho fatto l'ho arato guarda questo guarda questo sarafo buona buona il bane è entrata il bane all'angolo bravo hai zofia davanti fermo fermo dismal fermo stai buono stai buono stai buono dobbiamo chiuderla qua è lungo è lungo stai buono stai buono one tap di pistola no stai buono non dirglielo stai buono ti strappo i denti stai buono stai buono dio buono stai buono allora dobbiamo chiudere stai buono ti strappo le zampe stai stai fermo planta sto plantando l'hai vista l'hai vista buono buono easy grazie ugo toxic per lost perché mi dovete farti eeeh non ti baggare perché mi dovete farti tiltare perché mi dovete farti tiltare perché 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 mi dovete farti tiltare perché non dobbiamo chiudere le partite quando possiamo si chiudono ste partite raga easy proprio reception sto sto rischiando un botto nooo zitta un po' un altro un altro raffo fermo ferma di raffa che ti curo fermo mattene mattene corri corri all'altra parte c'hai la finestra perché va bene va bene 3v3 dai ho fatto la chiesa su sofia e direi basta così cosa l'ho fatto l'ho arato ho arato reception i think sì veramente sì 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 sono stupido mettersi qua dietro ho preparato giusto un po' ho preparato tutti gli angoli è entrato in studio è l'angolo presa ho fatto hash ho fatto hash sì comunque sono sotto passa il memoria allora cosa vuoi passa il memoria un altro fuori il bedroom dove stava stava qui fuori stava preso uno preso hash c4 in bagno pulse preso pulse non è che ho fatto lesion in bagno lesion in bagno buono pulso è morto buono c'è lesion in bagno via bagno vai non c'è nessuno in bagno via bagno via bagno via bagno hold a bagno va apposta la porta è pulita vai raffa metti la clamor metti la clamor vai ti hold la breccia centrale bravo ti copro più morto bocca morto stai giù stai giù stai giù stai giù io sono alto vai entra entra porta 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 a sinistra mirco close left close left buono buono mi ha fregato la chitto è la grande è la grande è la grande buono st'attacco pulitissimo ragazzi la serata di stasera è stata super stonks ma super stonks stiamo parlando di 6 vinte 6 vinte una persa con una media di supporto da parte vostra che è stato qualcosa di wow cioè siete stati veramente tantissimi non so che dire davvero non so che dire vorrei queste medie di twitch queste delle live che ragazzi vorrei così ogni sera anche di più grazie ancora per il massimo del vostro supporto e noi nulla ragazzi ci vediamo con il prossimo video e la prossima live ciao grazie a tutti i nostri spettatori